Raramente un Consiglio europeo ha sollevato tante aspettative come quello che ha avuto inizio a Bruxelles. I capi di Stato e di Governo dell'Unione sono chiamati ad agire per assicurare un futuro alla zona euro. Tra i punti in agenda, unione bancaria, integrazione fiscale, patto per la crescita e lo scudo antispread proposto dal Premier italiano Monti. Se la meta è comune, le strategie non lo sono, come dimostrano le divisioni tra Parigi e Berlino. Come sempre in questi Consigli europei si tratta di trovare un compromesso tra il lungo e il breve termine, sostiene il ministro finlandese agli affari europei. Penso che questo sia un vertice importante, forse non storico, ma certo tra i cinque più importanti dei 30 che abbiamo avuto negli ultimi quattro anni. Sono ottimista. Per la Germania una maggiore integrazione politica è la condizione necessaria prima di affrontare il dibattito sulle obbligazioni comuni europee. Per la Francia invece la priorità è salvare l'euro. Ci sono poi paesi come la Gran Bretagna che auspicano una soluzione alla crisi ma che non sono troppo interessati a rafforzare l'unione. Sul tema dell'unione bancaria sembra esserci una certa convergenza ed è un segnale incoraggiante. Sulle misure per il breve termine invece c'è più divisione. Vedremo se si riuscirà a trovare un compromesso. Tra le misure a breve termine c'è anche la proposta italiana di utilizzare il fondo salva stati per interventi volti ad abbassare i tassi di interesse dei paesi che subiscono pressioni speculative. Per un compromesso c'è tempo fino a venerdì sera.